Il tema è la salute in movimento, la Lilt di Milano, la Lega per la lotta contro i tumori, accanto al mondo dello sport, da domani la settimana nazionale della prevenzione oncologica. Mauro Atani. Stringe un patto virtuoso con il mondo dello sport, la Lega italiana per la lotta contro i tumori di Milano. L'occasione è l'avvio della sedicesima settimana nazionale della prevenzione oncologica, dal 18 al 26 marzo, insieme ai campioni delle due ruote. Proprio sabato, infatti, l'unità mobile aperta alle visite gratuite sarà la partenza della classicissima di primavera, la Milano-Sanremo, un'alleanza tra sport e benessere che continuerà anche con una serie di iniziative concordate in un protocollo steso insieme al CONI per promuovere la diffusione della pratica sportiva. Il tema della settimana di prevenzione della Lilt quest'anno è, non a caso, la salute in movimento, perché proprio una regolare attività fisica è uno degli ingredienti principali della ricetta anti-cancro, dice il presidente Marco Aloisio. Con una corretta alimentazione, dire alla gente di smettere di fumare e fare un movimento, sono sufficienti 30 minuti al giorno di movimento, di camminata anche non veloce, noi possiamo prevenire 4 tumori su 10.